voglio parlarvi di arte digitale perché perché come sapete l'arte digitale è ovviamente un' espressione umana dell'arte che grazie ai mezzi digitali ha dato la possibilità a tutti di ovviamente utilizzare nuove forme e adesso una che va forte di queste forme è questa qua si chiamano cripto kitties in sostanza sono questi animaletti di vari colori di varie forme eccetera che sono collezionati e vengono pagati un mucchio di soldi e sono veramente un successo cioè anche alcuni italiani ho visto che hanno incominciato a fare a fare questi come dire questi cripto cripto animaletti perché tirano perché funzionano sono da collezione un po delle figurine moderne l'unico problema è che leggendo un po di articoli del mondo un po più da quello che pare che venga fuori da questa storia è che il mondo nft appunto non fungible tokens con cui vengono pagati questi cripto kitties che alla fine sono cose così no sono questi animaletti strani di tutti i colori servono anche per riciclare denaro si riciclano milioni di dollari è diventato per alcuni luoghi in alcuni contesti un luogo per riciclare denaro sporco per cui occhi aperti quando andate a comprare certe robe bene il digitale